Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, carissime amiche, carissimi amici di Salvo 5.0, sono Salvo Mandarà, vi sto parlando in diretta, in questo momento mi trovo a Orsenigo in provincia di Como, ecco vediamo se riesco a farvi anche vedere un po' del panorama qui Orsenigese, ecco, sono qui oggi perché devo incontrare un cliente che si trova proprio da queste parti. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi credo che il Mi Scappa la Diretta sarà abbastanza breve perché non mi sono aggiornato proprio sulle ultime notizie, ho solo ascoltato un pochino la radio, ho ascoltato Radio Radicale, un pochino della rassegna stampa di Massimo Bordin, diciamo che comunque mi è bastato per avere qualche idea su qualcosa di cui parlare oggi, perché ho visto che appunto molti giornali parlano del fatto, alcuni giornali titolavano i nodi vengono al pettine o qualcosa del genere e questi nodi sarebbero il fatto praticamente che il mancato aumento dell'IVA e il posticipo dell'Imu o l'abolizione, ancora peggio, sono cose che non si possono fare. Mi verrebbe da dire, ma va? È ovvio, no? I giornali lo dicono, si sorprendono, si sorprendono, dicono, aia, ma com'è successo? E allora vedono Saccomanni che fa delle dichiarazioni, onestamente, dice non abbiamo le risorse perché ci vogliono 8 miliardi, ma noi questi 8 miliardi non ce l'abbiamo, io dico, ma va? Allora, ben inteso, 8 miliardi ci sarebbero come, ma non 8 miliardi, ce ne sarebbero 98 miliardi per la precisione, 98 miliardi che si potrebbero recuperare dall'evasione fiscale delle slot machine, però è ovvio, quei 98 miliardi puzzano evidentemente, sapete, c'è il proverbio latino che dice pecunia non olet, cioè i soldi non puzzano, ma invece evidentemente ci sono alcuni soldi, o per lo meno i soldi di alcune categorie di ladri che puzzano e per esempio i 98 miliardi dell'evasione fiscale delle slot machine puzzano evidentemente perché non c'è interesse da parte del governo di andarli a recuperare, quindi tutto il lavoro del colonnello che poi è stato messo fuori alla porta, diciamo, è andato in pensione con la carica di generale Rapetto, che praticamente ha scovato queste attivazioni di 98 miliardi, praticamente non assolutamente, si lasciano lì perché non interessa andarle a recuperare. Poi cosa dire, gli F-35 si devono comprare, non mi ricordo quante centinaia di milioni sono per gli F-35, però anche quelli non si devono recuperare, si devono spendere perché ovviamente come facciamo senza F-35 poi ad andare a bombardare l'Afghanistan, l'Iran o altri posti. Poi che cos'altro? Il TAV, ovviamente il TAV quello si deve fare perché quello lì serve fare il buchetto per fare il corridoio 5 e poi che cos'altro? Poi le mega pensioni, pagare le pensioni a delle persone che ne hanno magari due o tre che arrivano fino a 90 mila Euro al mese, anche quelli si devono fare. Poi che cos'altro? cosa possiamo elencare? Aiutatemi, adesso io non riesco mai a ricordarmi sempre tutte le cose che ho in mente, ma insomma ci sono veramente tantissime voci che potrebbero permettere non solo di togliere l'Imu e di non aumentare l'IVA, ma addirittura anche di fare un reddito di cittadinanza, cioè le risorse in Italia ci sono. Ecco scusate, stavo dimenticando la cosa più importante, i rimborsi elettorali, i rimborsi elettorali sono centinaia di milioni che si possono recuperare per quanto riguarda i rimborsi elettorali, ma anche quelli ovviamente non si possono recuperare. Quindi i soldi non ci sono, mancano le risorse, perché? Perché ovviamente non vogliono smettere di rubare, quindi quando Saccomani dice che non ci sono le risorse dovrebbe aggiungere, siccome non vogliamo smettere di rubare allora non abbiamo le risorse per fare le cose che abbiamo promesso, che poi sono cose che ha promesso Letta, cioè il governo Letta, di cui Saccomani fa parte, ha fatto delle promesse quando si è insediato e cioè che non avrebbe aumentato l'IVA e avrebbe ritardato il pagamento dell'Imu. Ovviamente le promesse non sono mantenibili perché è ovvio che le bugie hanno le gambe corte, a meno che non c'è un cambio sostanziale di strategia, cioè se tu dici noi adesso smettiamo di rubare e quindi facciamo queste cose allora forse si potrebbe fare, ma siccome non c'è l'intenzione di smettere di rubare o di proteggere coloro che hanno già rubato, ecco un'altra cosa per esempio lo scudo fiscale, il 5% hanno pagato una serie di ladri, probabilmente quelli coinvolti nello scandalo Monte Paschi Siena e chissà chi altri, insomma ci sono tutta una serie di cose da fare, 21 miliardi di buco del Monte Paschi Siena, adesso la magistratura sta indagando, magari in una parte si riuscirà anche a recuperarli, chi lo sa, chi lo sa, speriamo. Quindi insomma 21 miliardi di qua, 20 miliardi di TAV, 98 miliardi di versione fiscale delle slot machine, centinaia e centinaia di milioni all'anno di rimborsi elettorali, insomma ci sarebbero i soldi ovviamente se si volessero prendere, bravo mi dice Sant'Anché finanziamenti all'editoria, ottimo, un miliarduccio di finanziamenti all'editoria, ma andando a cercare, andando a scavare, i soldi si trovano se si vogliono trovare, ma ovviamente non si vogliono trovare, perché se tu togli i finanziamenti all'editoria, poi come fai ad avere la Repubblica, il Corriere della Sera e tutti gli altri giornali che ti fanno i tromboni governativi, che praticamente continuano a raccontare balle per ammazzare l'unica forza politica che sta cercando faticosamente di mettere i bastoni fra le ruote a questi ladroni, quindi è ovvio che i finanziamenti all'editoria non si possono togliere, i rimborsi elettorali non si possono togliere, i 98 miliardi non si possono recuperare, il TAV non si può interrompere, gli F-35 non si può evitare l'acquisto, eccetera, 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 e quindi l'Imu si deve pagare e l'Iva deve aumentare. Ecco, però ovviamente i problemi cosa sono? I problemi sono che c'è una senatrice del Movimento 5 Stelle che è arrabbiata con Grillo perché non le chiede scusa perché ha detto che forse dovrebbe dimettersi, visto che è andata a fare delle dichiarazioni dicendo che il problema del Movimento 5 Stelle è Grillo. Io dico, tu hai trovato magari qualche dichiarazione di Grillo esagerata? D'accordo, è legittimo pensarlo, per carità, sappiamo tutti, conosciamo tutti la verve di Grillo, Grillo è un uomo molto incazzato, sappiamo come è lui, lui è così da sempre, è da 30 anni che sappiamo come Grillo nei suoi spettacoli, nel suo eloquio, quindi tu magari ci sono delle cose che non condividi quello che ha detto, va bene, ma andare a dire a un'intervista, a una telecamera che la colpa del disastro dell'Italia e che Grillo dice le parolacce veramente è proprio un mezzuccio perché in effetti ti vuoi autoescludere, vuoi essere presa a calci, ecco questo è quello che io penso, vale la stessa cosa per gli altri due della Camera che vanno nel gruppo misto eccetera eccetera, quindi questo per dire, però per i giornali ecco il fatto del giorno è questo, infatti ieri ho visto un post carinissimo del mio amico di tutto il fango minuto per minuto che diceva appunto che un giornalista di TG Com ha telefonato per dire scusate vorremmo intervistarvi sul fatto del giorno, la senatrice anti Grillo e quelli hanno detto no mi scusi veramente il fatto del giorno per noi è che alla Camera si sta discutendo di una, di che cos'è che si discuteva, mannaggia? C'era un argomento importante, ah sì dell'ENI, dello scandalo dell'ENI, no? Ecco, quindi per noi è questo il fatto del giorno, allora quello ha detto, ah scusi dalla redazione ci avevano detto un'altra cosa, adesso ci informiamo, clic hanno chiuso la telefonata, vabbè insomma, quindi che cosa dire ragazzi? Dire che veramente l'Italia sta finendo, ecco l'Italia è già finita, comunque io sono moderatamente soddisfatto perché penso che veramente quando a settembre o a ottobre, vedremo ecco, cominceranno a non pagare le pensioni, cominceranno a non pagare gli stipendi degli statali, cominceranno veramente a mancare i soldi proprio per le cose proprio minime, allora gli italiani scenderanno in piazza con i forconi, perché poi a quel punto quando gli italiani che sono, amano essere sodomizzati dal governo, però quando poi comincerà a mancare proprio il cibo, quando poi non avranno veramente i soldi per andare a fare la spesa, allora si sveglieranno finalmente e andranno in piazza con i forconi, ecco io aspetto questo momento e credo che ormai manchi veramente fuoco, questo è quello che penso, quindi noi stiamo tranquilli, tutto sommato io sono, come lo dico sempre, non mi vergogno, io sono un privilegiato perché ho un posto di lavoro, uno stipendio che non è neanche tanto basso, quindi non ho problemi per sopravvivere, quindi sopravvivo tranquillamente, io potrei far parte, diciamo che ho tutti gli elementi per far parte dei galleggiatori, cioè quelli che hanno paura a cambiare, invece ci sono tanti altri che magari sono a rischio, che hanno paura del cambiamento, però arriverà il momento in cui la gente si riverserà sulle strade con i forconi, ma non di polistirolo come quello che avevo io a giugno di due anni fa quando sono andato a Roma per una manifestazione, avevo un bellissimo forcone di polistirolo, invece molto presto gli italiani saranno finalmente costretti ad andare in strada con i forconi, ma quelli veri, per cacciare questa classe politica e poi vedrete che le parolacce di Grillo passeranno in secondo piano, si ricorderanno le sodomizzazioni ricevute da questa classe politica, quindi io sono veramente tranquillo. Basta, io con questa battuta vi lascio, carissimi amici e carissime amiche, vi auguro buona giornata, oggi è venerdì, ci vediamo per il Mi Scappa la diretta di domani, probabilmente con qualche altra notizia, perché tanto non mancano le notizie, oggi la notizia del giorno per me è questa, che i nodi sono venuti al pettine, una cosa che noi sapevamo da sempre naturalmente, l'impossibilità di restituire l'Imu, o comunque di restituire in effetti quello lì lo diceva solo il nano in campagna elettorale, ma comunque almeno il ritardo, l'ETA aveva promesso il ritardo del pagamento o l'abolizione, ma ovviamente questo non è possibile, o perlomeno sarebbe possibile solo se si smettesse di rubare, come ho detto all'inizio, ma ciò è veramente non possibile da queste persone. Va bene, io allora vi abbraccio, vediamo cos'è che mi scrivete, fassi cacciar fuori una scusa per poi riprendersi tutti i soldi che aspettano per legge, esatto, sono d'accordo con Santanghe, Andrea Prosperi scrive, 4 del PD sono passati al gruppo misto 3 giorni fa, ma niente sui giornali, ovviamente Andrea, ovvio, ovvio, poi... Scubato P dice, Gambaro vuole essere usata come cavallo di troia del PD per traghettare i dissidenti nel gruppo misto, ma chi lo sa, può darsi, ciao Salvo che bello rivederti dice Tequila, ciao carissima, grazie, è bello per me essere qui con voi. Va bene, vi saluto, così vado al bar, sono qui con dei colleghi per la riunione che ho oggi dal cliente, quindi l'appuntamento è alle 9 e mezzo, quindi siamo ancora un po' in anticipo, quindi vado a raggiungere i miei colleghi, magari bevo qualcosa e poi vado a questa importante riunione con un cliente, vado a produrre qualcosa anch'io. Un abbraccio, ci vediamo presto, forza, coraggio, continuiamo, prima o poi gli italiani si sveglieranno, è solo questione di tempo. Un abbraccio a tutti, un abbraccio soprattutto ai giornalisti di Repubblica, del Corriere della Sera e a tutti gli altri che sono veramente bravi, sono tutti dei giornalisti molto seri, molto obiettivi, soprattutto un abbraccio al mio amico Corrado Formigli, il più obiettivo, il più bravo di tutti i giornalisti televisivi. Ciao a tutti, a domani.